Baby killer di Robin Hood, autore della rivolta, sarebbe il 19enne affiliato al clan d'amico, intervistato nel docufilm di Michele Santoro, il protagonista della protesta nel carcere di Airola, duro il sindacato, da lui nessun ravvedimento. Auto in fiamme sulla A3, muore carbonizzato la tragedia su una piazzola di sosta dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, poco prima dello svincolo di Ponte Cagnano Sud, il cadavere carbonizzato di un uomo era al posto di guida, si indaga. Giuliano riesplode la faida tra i clan, si indaga sull'omicidio del 43enne assassinato da un killer nell'auto del boss Longobardi a Barcaturo, ora torna la paura di una nuova guerra tra le cosche dei campi flegrei. Scuola Giannini contestata a Salerno, la ministra sotto accusa per la riforma e i trasferimenti, ma lei chiarisce scelte obbligate ma possibili delle modifiche e sul numero chiuso delle facoltà di medicina nessun passo indietro, è una garanzia di competitività. Il centrodestra boccia il patto di Foti, Dercola e Primavera Irpina dicono no all'accordo sui 100 giorni proposti dal leader dell'opposizione, Dido Preziosi, subito il commissario per tornare al voto entro il 2017. Vertenza Mensa, occupato il comune, protesta dei lavoratori della Mensa scolastica di Benevento, occupata la sala consigliare di Palazzo Mosti, critiche per la mancata concertazione e per il contratto che mette a rischio i livelli occupazionali. Eccoci buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In primo piano ancora la rivolta nel carcere minorile di Airola, uno dei responsabili individuati dalle forze dell'ordine e anche protagonista del docufilm di Michele Santoro, presentato pochi giorni fa alla mostra del cinema di Venezia. Vediamo questo servizio. La paura della morte è una cosa più bella. Mariano, il baby killer della Camorra, intervistato nel docufilm di Michele Santoro Robinù presentato a Venezia, è anche uno dei protagonisti della rivolta nel carcere minorile di Airola. Dalla realtà alla pellicola e sullo sfondo una sezione del carcere minorile devastato dalla furia di chi giovanissimo non ha niente da perdere ed è pronto a tutto. 40.000 euro di danni, tre agenti feriti, il bilancio della furia scatenata dai baby boss. Fa parte di un clan di Ponticelli, esalta nel trailer pubblicato il suo stato criminale, manifestando disprezzo verso le istituzioni e le forze dell'ordine. I tre responsabili della rivolta sono stati allontanati da Airola e sconteranno le loro pene in un carcere per minori in Puglia. Per loro fare i malavitosi ha significato diventare da niente tutto capi, modelli, maestri di vita, spiega Donato Capece, segretario generale Sappe. Sicuramente questi sono dei mini boss che hanno deciso di intraprendere una strada delinquenziale che poi sfocerà nelle loro partecipazioni a quella che è, sono gli ingarichi, il famoso discorso della paranza, sono quelli che poi dovranno assumere gli incarichi di comando nelle carceri per i minori, nei clan, tanto per capirci. È proprio questo soggetto particolarmente attenzionato perché è stato l'autore di questa mini rivolta che attraverso le sue minacce ha coinvolto parecchi altri compagni di Cella. Mariano appartiene a un clan di Ponticelli ed è stato condannato a 16 anni di carcere perché avrebbe ucciso, la sentenza non è ancora definitiva, un ragazzo poco più grande di lui appartenente a un clan dell'area nord. È giallo sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato all'interno di una Ford Focus questa mattina su una piazzola di sosta dell'autostrada a Salerno-Reggio Calabria poco prima dello svincolo per Ponte Cagnano Sud. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori della misericordia dopo aver spento l'incendio che ha distrutto la parte anteriore del veicolo i volontari hanno ritrovato il corpo di un uomo di circa 30 anni originario di Campania in provincia di Salerno steso al posto di guida. Intervenuti gli agenti della polizia stradale non è chiaro ancora se si tratta di un evento accidentale o doloso. La polizia sta indagando per risalire alle cause del decesso. Forse uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Giuliano. Luigi Mattera, 43 anni, incensurato è stato ucciso con tre colpi di pistola, nessun legame con la camorra ma viaggiava nell'auto della figlia del boss Longobardi. Un colpo lo ha centrato al volto e altri due al petto a sparare una calibro 7,65. È morto così il 43 anni, incensurato Luigi Mattera, ieri pomeriggio in una traversa di via Caffariele a Barcaturo, contrada a contessa Giuliano. La vittima, sposata e con due figlie, era di Pozzuolo e viaggiava a bordo di una lancia Y, intestata alla figlia del boss Gennaro Longobardi. I sicari, a bordo di uno scooter, lo hanno affiancato e il passeggero ha sparato senza sbagliare da distanza ravvicinata. Il 43 anni ha finito la sua corsa contro una vettura che sopraggiungeva della direzione opposta. È stato lo stesso conducente della Ford a capire che l'uomo era stato ucciso e ad allertare i carabinieri della compagnia di Giuliano. I militari hanno così scoperto che l'auto su cui viaggiava Mattera era intestata alla figlia del boss di Pozzuoli, Gennaro Longobardi, uscito dal carcere a maggio scorso ed attualmente sorvegliato speciale con l'obbligo di dimora nel comune di Pozzuoli. Non aveva precedenti penali e Mattera era stato solo trovato alcune volte in compagnia di esponenti della mala flegrea, spesso proprio del clan Longobardi. Tra l'ipotesi al vaio degli inquirenti quindi anche quella che il vero obiettivo dei killer fosse proprio il boss Longobardi, una possibilità che vacilla da subito visto che il ras non può guidare e non può incontrare pregiudicati. E cambiamo argomento, trasferimenti dei prof al nord, una scelta obbligata e inevitabile ma qualche aggiustamento si può ancora fare così. La ministra dell'istruzione Stefania Giannini a Salerno, ospite di Panorama, ha risposto anche sulle polemiche, sul numero chiuso nelle università di medicina, ha detto che nessun passo indietro è una garanzia di competitività per il nostro paese. Sentiamo. Un coro di contestazioni ha accolto l'arrivo del ministro dell'istruzione Stefania Giannini a Salerno, ospite del salotto di Panorama d'Italia. L'iniziativa che per il secondo anno consecutivo il settimanale tiene a Salerno, toccando questa volta anche la costiera amalfitana. Le contestazioni degli insegnanti contro quella che hanno definito la deportazione della buona scuola non si fermano. L'80% degli insegnanti italiani, parlo soprattutto adesso dei neoassunti, è nato e vive a sud di Roma. Il 67% delle cattedre disponibili è a nord di Roma. Ribaltare la geografia è un'operazione veramente complessa che nessuno credo ha nelle proprie mani. Noi abbiamo fatto una legge che ha dato un'opportunità straordinaria a tutti coloro che da decenni in qualche caso aspettavano il diritto, sottolineo il diritto della stabilità di un posto di lavoro. È chiaro che c'è ancora un fenomeno di mobilità che va sistemato e lo stiamo facendo in questi giorni. C'è un'ingiustizia e una disparità di trattamento quando poi questi precari avevano diritto all'immissione in ruolo perché avevano già superato i tre anni di contratti a tempo determinato. Dunque per evitare le multe della Corte europea hanno fatto questa forma di ricatto a dire fate la domanda però andate dove capita. Protestano gli studenti anche contro i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso. Questo sistema fortemente discriminatorio e classista sappiamo bene che a seconda delle necessità e dell'estrazione sociale degli studenti non tutti possono permettersi un percorso di istruzione che garantisca l'accesso a queste università. I posti disponibili che assolutamente devono restare programmati perché questo ha fatto fare un salto di qualità straordinaria alla formazione medica italiana che è ai primi posti insieme alla Francia in Europa e quindi nel mondo e questo è un valore che non va assolutamente perso. Andiamo di nuovo a Napoli, vediamo se ci sono segnali ma non è che stiamo con le braccia verso il cielo ad aspettare che il Presidente del Consiglio ci onori del suo incontro. Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris parlando della visita di Matteo Renzi in città in programma il prossimo lunedì. È assolutamente anomalo, inusuale e fin anche grave, afferma il primo cittadino che non ci sia interlocuzione con il Sindaco della città più significativa del Mezzogiorno che a differenza della politica nazionale amministra con le mani pulite e il Presidente del Consiglio non ritiene di impiegare 20 minuti per ascoltare e lo dico a chi da mesi parla da Sindaco isolato, conclude, non è così, qualcuno ha provato a farlo, a isolarmi, ad accerchiarmi ma è stato ugualmente respinto. E giallo sulla morte di Ciro Ciocca, lo studente della Federico II di Napoli, morto durante un Erasmus a Parigi. La Procura della Repubblica apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Tragica morte di un giovane studente italiano in Francia. Ciro Ciocca, ventenne molisano, appena arrivato a Parigi per il programma Erasmus alla Federico II di Napoli, si è tolto la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Anche perché in precedenza si erano diffuse voci di un omicidio per un accoltellamento durante una rapina, le prime notizie su Ciro sono rimbalzate da alcuni parenti e alcune fonti locali, che erano arrivate addirittura a parlare di un'aggressione. Secondo queste fonti, in particolare, il giovane originario di Riccia, a 21 anni il prossimo mese, sarebbe stato accoltellato per un tentativo di furto di un telefonino e di un PC. In mattinata invece si è diffusa la notizia che il procuratore di Campobasso, Armando D'Alterio, ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di stigazione al suicidio. In queste ore i carabinieri, su delega della procura, stanno ascoltando parenti e amici dello studente. Dai politici italiani appello al governo ad impegnarsi con le autorità e le istituzioni francesi per fare piena luce su un atto di violenza tanto efferata. Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì e sabato. È stato il fratello Gianluigi a lanciare sul suo profilo Facebook il primo allarme, ma senza spiegare bene cosa fosse accaduto. Non doveva succedere a lui, ha scritto alle due e sedici della notte di un sabato di settembre appena iniziato, facendo seguire la frase con quattro punti esclamativi. Le condizioni di Ciro sembravano stabili, ma poi il peggioramento fino al decesso avvenuto cinque giorni dopo. Nella tarda serata di mercoledì il padre di Ciro ha chiamato l'ambasciatore italiano a Parigi, rivelando la vera causa della morte e quelle che erano state enunciate come diverse coltellate, si sono poi ridimensionate ad una sola e profonda. Circostanza più compatibile con l'ipotesi suicida rispetto alle ferite multiple delle quali si era parlato in principio. La crisi al comune di Avellino, primavera Irpina critica l'accordo dei cento giorni tra il sindaco e il capo dell'opposizione e dice solo una strategia per appoggiare Foti. La consigliatura di Foti deve finire, il commissariamento sarebbe la soluzione a tutto il male che la città sta subendo. Primavera Irpina non ci sta, a quanto sta accadendo il Consiglio Comunale ha manifestato tutto il suo dissenso alla proposta dei cento giorni messa in campo dal capo dell'opposizione Dino Preziosi. È singolare chiedere cento giorni dopo sostanzialmente tre anni di amministrazione. La cosa un po' strana è che poi richiede a chi era candidato contro di lui all'elezione, ancora più strana è che chi ha perso al ballottaggio contro di lui e dovrebbe essere il capo dell'opposizione sembra disponibile a dagliere. Il dramma è che riteniamo che questi giorni non siano null'altro che un ponte per raggiungere febbraio 2017 la qualcosa che consentirebbe di centrare l'obiettivo della consigliatura piena. Quindi non ci appendiamo a questi numeri, a questi giorni, ma invece contestiamo il fatto che questa amministrazione, un'amministrazione che ha provocato danni esasperanti per la città di Avellino e non potrà certo dare benefici in appena cento giorni. Purtroppo il sindaco nel suo appello, che purtroppo è stato raccolto da parte dell'opposizione, ha parlato soltanto di strutture, di cose vuote e inanimate, l'Eliseo ed altro, e non è riuscito a individuare le vere emergenze che sono il commercio, che sono i giovani che vanno via, che sono situazioni anche di incredibile abusivismo che nella città si registrano e che tendono sempre di più a far desertificare la nostra città in quanto gli avellinesi che possono vanno via, i giovani che possono scappano via. E apriamo la pagina sindacale, andiamo a Benevento, protestano i lavoratori della mensa scolastica occupata, la sala consigliare del comune, vediamo. Protestano i lavoratori della mensa scolastica di Benevento che questa mattina hanno occupato l'aula consigliare di Palazzo Mosti, a capeggiare la protesta alla CGL, tra i motivi del gesto la mancata concertazione e alcuni punti del contratto che metterebbero a rischio i livelli occupazionali. Si aumenta il tempo di cottura dei passi che devono essere consegnati, per cui nel capitolato si prevede un aumento da 45 minuti a 90 minuti. Nel capitolato, ancora nell'articolo 30, non vengono salvaguardati i livelli occupazionali dei 50 dipendenti, tant'è che quella clausola non prevede l'obbligo per l'azienda di assumere tutti i dipendenti che lavoravano nell'appalto, ma permette all'azienda di assumere solo quelli necessari per l'espletamento del servizio. Immaginate adesso un pasto consumato dopo 90 minuti, immaginate praticamente che il centro di cottura non è ancora pronto, immaginate praticamente che cosa vuol dire aumentare anche il ticket mensa perché abbiamo avuto modo di confrontare le due delibere. c'è un aumento del 56,6%. Preoccupati i lavoratori che hanno spiegato come da tempo ormai la situazione lavorativa sia tutt'altro che tranquilla. Tantissima preoccupazione chiaramente da parte dei lavoratori, speravamo in un miglioramento, c'è stato promesso in campagna elettorale che le cose sarebbero cambiate, in effetti tutte le promesse sono venute meno, non c'è stato il centro di cottura, non c'è stata la salvaguardia dei lavoratori e quindi praticamente si vive un clima di incertezza, di forte incertezza. A Salerno invece chiudono due sale bingo, 118 licenziamenti questa mattina alla protesta dei lavoratori. Aumentano anche a Salerno i casi di vittime di ludopatia, la tendenza al gioco compulsivo che ha rovinato decine di famiglie nell'ultimo anno. La chiusura di due sale bingo, decisa dalla società spagnola Oper Bingo sul territorio, potrebbe essere una buona notizia se non fosse che ora, per 118 lavoratori, si spalanca l'incubo del licenziamento. Questa mattina sindacati e lavoratori hanno protestato davanti alle sedi di Pastena e Fratte. Qualche giorno fa ci è stato comunicato una procedura, praticamente è stata aperta una mobilità per 118 dipendenti, quindi l'azienda ci ha informato che praticamente per la crisi che sta vivendo vuole lasciare il territorio. È una situazione drammatica, visto e considerato che tanti di noi viviamo di questo stipendio e che praticamente in questa struttura sono impiegati anche coppie, marito e moglie, per cui perdere la retribuzione di due capofamiglie è importante. Le nostre sale sono interessate in effetti con una chiusura di entrambe, per cui i nostri dipendenti di queste due sale sono in totale 118. In Irpinia, a Montella, continua il presidio davanti ai capannoni abusivi in località San Salvatore, strutture che devono essere abbattute. Noi da qui non ci muoviamo, dovete spostarci con la forza, hanno detto i manifestanti. È intervenuto un grande dispiegamento di forze armate, presenti i carabinieri e la polizia, i pompieri, i sanitari del 118 e i vigili urbani guidati dal comandante Gerardo Iannella. Andiamo nella terra dei fuochi, a Casalnuovo, uno sportello comunale per i cittadini che sono rimasti intossicati dai roghi e per sabato un flash mob al Camporom per tre volte incendiato in un mese. Uno sportello comunale per i cittadini intossicati dai roghi è stato inaugurato questa mattina al comune di Casalnuovo di Napoli. Obiettivo? Promuovere azioni giudiziarie, penali e civili e coordinare aiuti con le autorità sanitarie territorialmente competenti. Uno sportello ad hoc affinché ogni cittadino che abbia subito un danno di natura fisica o comunque un qualsiasi tipo di danno che potrebbe essere risultante da certificati o qualsiasi cosa possa venire al comune e consegnarci ed essere tutto un materiale probatorio a sostegno delle nostre iniziative. Dunque nella terra dei fuochi flagellata dall'ecomafia dove la gente è indignata e chiede interventi concreti ecco la risposta delle istituzioni. Lo sportello attivato dal comune di Casalnuovo per il momento sarà operativo una volta a settimana. Il giovedì appunto è per una sola ora dalle 15 alle 16 ma questa non è l'unica iniziativa promossa dal sindaco Massimo Pelliccia che annuncia un'azione legale riguardo la vicenda dell'incendio al campo Rom di Afragola. Diversi roghi hanno invaso la nostra città da luglio proprio a colpa di questo campo Rom che si trova nella zona di Afragola ma è a confine con il nostro territorio. Non potevamo restare inermi. Seguenzialmente abbiamo deciso di costituirci parte civile nel processo che sicuramente si aprirà perché parliamo di una vasta area dove c'erano dei nomi, un incendiamento abusivo di Rom, parliamo di una vasta area dove potrebbe essere capitato e è accaduto del tutto. E adesso andiamo a Pagani in provincia di Salerno. Dopo l'inchiesta e i sei avvisi di garanzia il direttore sanitario dell'ospedale Tortora dove è morto un paziente di 65 anni ustionato si difende. Dice le ustioni e la morte sono due cose separate. Sentiamo. Facciamo 500 procedure l'anno. L'elettrochemioterapia è sicura. Mi dispiace per quanto è accaduto al paziente di Andria ma è stata una fatalità. Le ustioni e la morte sono due cose separate. Queste le prime dichiarazioni del direttore sanitario dell'ospedale Tortora di Pagani, Maurizio D'Ambrosio. Domenico Zefferico, 65enne pugliese, è deceduto il 2 settembre scorso, un mese dopo essere rimasto gravemente ustionato durante una seduta di elettrochemioterapia necessaria per la cura del suo tumore al fegato. La procura di Nocera Inferiore è iscritto nel registro degli indagati tre medici del reparto e tre infermieri. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, la presenza dei periti nominati dalla procura e quelli dell'azienda sanitaria di Salerno. L'ospedale sostiene che la morte del 65enne non abbia nulla a che vedere con le ustioni provocate dal macchinario. Sarebbe giunta per il decorso della malattia. Nessuna imperizia durante l'intervento sostiene D'Ambrosio. Eppure le lenzuola sono andate a fuoco, il paziente è rimasto ustionato sul 10% del corpo. Ora sarà la magistratura a stabilire se in quella stanza non sono state eseguite correttamente le procedure e se quelle ustioni hanno determinato l'aggravarsi del quadro clinico. Turismo e investimenti. Siamo ancora a Salerno. L'assessore Roberto De Luca e il presidente di Marina d'Arechie Agostino Gallozzi tracciano la rotta per lo sviluppo nell'ambito delle iniziative di Panorama. Vediamo. Partire dalle cosiddette eccellenze per capire quale può essere il futuro economico del territorio. A Salerno, ospite di Panorama, l'assessore Roberto De Luca sottolinea la vocazione turistica della città con gli sforzi dell'amministrazione per farla diventare una capitale internazionale. Possiamo diventare un'eccellenza anche dal punto di vista dell'attrazione degli investimenti, ad esempio possiamo diventare un modello a livello nazionale, ci stiamo lavorando, stiamo lavorando di concerto con la regione e col governo, le zone economiche speciali, stiamo cercando di creare un hub per la manifattura 4.0 e poi dobbiamo ovviamente puntare al decollo definitivo della città come polo turistico davvero di livello mondiale. Abbiamo mossi i primi passi, abbiamo creato un'identità forte, adesso è il momento di sfruttarla al meglio e di creare davvero quell'indotto che ci consentirà di creare posti di lavoro, opportunità e quindi di creare davvero la città turistica. Nel Salone dei Marmi, a proposito di eccellenze, c'era anche il presidente di Marina da Rechi Agostino Gallozzi che ha prima ricordato con emozione Peppino Amato scomparso ieri, non nascondendo poi i timori per i continui sbarchi di migranti e le possibili rigatute negative per il porto salernitano. Non inizierò questa mattinata se non dopo aver ricordato la figura del cavale Amato, io sono stato cavaliere del lavoro, nominato dopo di lui, dopo vent'anni che non c'era un cavaliere del lavoro a Salerno, quindi devo dire che è stato un rapporto molto forte. È chiaro che se ci rimbocchiamo le maniche nell'ambito del sistema portuale italiano e accogliamo queste navi che sono obiettivamente impattanti nel sistema portuale commerciale, è bene che questa disponibilità sia suddivisa. Un improvviso guasto meccanico ha determinato da questa mattina la chiusura temporanea della funicolare di Montevergine. Il guasto ha interessato un pezzo dell'impianto la cui manutenzione rientrava nel programma di interventi previsti dal 12 ottobre in poi, data di chiusura del ciclo di vita tecnica della funicolare. Pur non rivestendo carattere di particolare gravità, il danno potrebbe richiedere tempi di intervento per ora non quantificabili. Per evitare disagio ai turisti e ai fedeli intenzionati a raggiungere il santuario di Montevergine, l'AIR, gestore dell'impianto, ha previsto comunque un servizio navetta sostitutivo che osserverà il medesimo orario della funicolare, con partenze dalla stazione di Viale San Modestino a Mercogliano e dalla stazione in vetta a Montevergine. Ed era questa l'ultima notizia, mi fermo qui, tra pochissimo arriva lo sport con Massimiliano Grimaldi e vi ricordo che il Tg di 8 Channel andrà in onda nuovamente in diretta alle 15 e tutte le altre notizie sono sempre disponibili sul nostro portale 8pagine.it e sulla nostra app gratuita. 8 pagine news, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio. Grazie a tutti.